Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, sono con il mio bacio, sono molto felice quest'oggi, ho trovato qualche oretta per venire, e oggi ho volto una rossolla, e sono tutti ingredienti tipici di sessibilità, infatti ho messo uva, apple, mozzarella, torna, sivolla, qualche pistacca e infine qualche fogliolino di mezzo. Un impasto tutto da un semplice impasto diretto, di 4 ore impasto, e quello di che ho fatto un valentatore di valentazione, e un impasto al 62% di produzione. Un buongiorno adottorzato da quel quale pomigli sul costo di un buongiorno azianga, e qualche piccolo prodotto, un buongiorno di caldo, con il buongiorno di caldo, e quella del buongiorno. del buongiorno di caldo. Grazie per la visione!